Io faccio atletica in pista, quindi per me il cronometro è fondamentale. Per me battere me stessa è l'obiettivo principale e quindi ogni giorno trovo la motivazione nelle mie corse. Volendo questo può essere trasportato anche nella vita, l'attitudine che si ha durante la corsa si può anche avere nella quotidianità. La mia famiglia non mi ha mai obbligato a fare niente, non mi ha mai obbligato a correre. Ovviamente in casa si parla fondamentalmente di questo, anche perché mio papà ha lavorato per tanto tempo per la federazione. Mia mamma era un atleta, mio papà adesso allena, quindi in casa è tutto un po' atletica. Però penso che sia stato proprio un percorso naturale. Personalmente penso che il momento migliore per me per allenarsi sia o per esempio in pausa pranzo oppure la mattina molto presto. Io raramente mi sveglio senza voglia di allenarmi e quando succede comunque cerco di pensare all'obiettivo che mi sono prefissata. Penso che l'allenamento nei momenti di studio sia un buon modo per sapere quando concludere e quindi sapere quanto si può studiare magari la mattina, prendersi la pausa e poi riprendere al 100% al pomeriggio.